Non mi par questo il verso, non mi par manco la mossa, sa tanto che sto grifo c'ha già un piede dentro alla fossa, e m'ero arcomandato di quanto fosse importante, vincè sta prima fase, ma non c'ho capito niente, sembra di parlare coi sordi, questi vogliono senti, vedo l'ora che finisca per cimperi e per sparì, tanto talor che gli frega, miga nennati di qui, fa sapere tra due o tre mesi, giochè anno oggi ti ha finì. La cosa che dispiace è che Ernanda ti invantaggio, se son fatti raggiunge e sorpassa che è ancora peggio, purtroppo sto Perugia c'ha qualcosa che va, sa tanto che sarà dura, trova chi riesce a curà, resta solo la speranza di un'impresa qua su alcuri, fa vedere almeno stavolta se in grifoni no somari, ribalta la situazione, fa contenti i perugini, che stannan subito spesso delusioni e umiliazioni, questa è l'ultima occasione per vedersi in corsa vivo, per cui dico forza Grifo, te lo canto e te lo scrivo.